E se ti dicessi che il vero movimento della Terra attraverso la galassia è molto più di una semplice orbita intorno al Sole, immagina un viaggio che non è determinato solo dalle forze gravitazionali del nostro sistema solare, ma anche da processi dinamici all'interno della nostra galassia. Questo viaggio aggiuntivo del nostro mondo attraverso la Via Lattea potrebbe avere un impatto sulle nostre vite molto più grande di quello che abbiamo realizzato finora. Anche la vita potrebbe essere arrivata sul nostro pianeta in questo modo, e i sottili cambiamenti nell'orbita terrestre determinano il nostro clima in modi sorprendenti. Immagina una pista da ballo cosmica dove stelle, pianeti e galassie si esibiscono in una danza eterna in una coreografia armoniosa e dinamica. Tutti gli oggetti di questo spettacolo cosmico interagiscono tra loro, influenzandosi, accelerando e decelerando. Questi movimenti probabilmente giocano un ruolo molto più importante nella struttura cosmica complessiva di quanto abbiamo mai osato sognare. Gli scienziati stanno appena iniziando a comprendere questo complesso gioco e gli incredibili effetti delle forze cosmiche sul nostro pianeta. Cominciamo dalla Terra La Terra non solo ruota sul proprio asse, il che determina il ciclo del giorno e della notte, ma orbita anche intorno al Sole con un percorso ellittico. Questa orbita viene chiamata anno e le variazioni di altitudine e profondità, così come la distanza dal Sole, compongono le nostre stagioni. In inverno la Terra si avvicina al punto più vicino al Sole, il perielio, mentre in estate si allontana verso il punto più lontano dal Sole, l'afelio. Un tempo si pensava che il Sole fosse fisso in un punto, e per questo veniva chiamato anche stella fissa. Oggi sappiamo da tempo che si tratta di una vera e propria assurdità, in quanto ci sembra solo che il Sole si trovi in un punto statico. In realtà orbita intorno al centro della nostra galassia e si muove su un percorso complesso attraverso la Via Lattea. Questo movimento è influenzato dalle forze gravitazionali della galassia, ed è proprio questa forza gravitazionale che fa sì che il nostro intero sistema solare si muova in un percorso a spirale attraverso l'universo. Il Sole trascina tutti i pianeti intorno a sé in questo viaggio, ed è quasi incredibile quanto tutto sia perfettamente coordinato e le forze gravitazionali funzionino in modo tale da non farci notare nulla della nostra danza galattica all'interno del sistema solare. Per darti un'idea delle dimensioni del movimento, devi renderti conto della velocità con cui si muove la nostra Terra. La Terra ruota su se stessa a una velocità di 1670 km all'ora all'equatore e si muove intorno al Sole a 107.000 km all'ora. La nostra stella corre nella Via Lattea a 828.000 km all'ora. Incredibile, vero? Il Sole sembra così tranquillo quando guardiamo il cielo, ma in realtà è un corridore galattico e anche il nostro pianeta viaggia a velocità che dovrebbero farci sentire almeno un po' diversi. Ma noi non ci accorgiamo di nulla di tutto questo. Il nostro Sole si trova a circa 26.000 anni luce dal centro della galassia e nonostante la sua velocità impiega circa 225 milioni di anni per orbitare intorno al centro della Via Lattea, un viaggio che gli scienziati chiamano anno galattico. E poi c'è la nostra stella galassia, la Via Lattea. Fa parte di una danza ancora più grande. La Via Lattea ruota con stelle e sistemi stellari che ruotano in un gigantesco disco piatto. Questa rotazione non è uniforme. Le stelle vicine al centro galattico si muovono più velocemente di quelle in periferia. E non è tutto. Come puoi già immaginare, anche la nostra galassia si muove all'interno dell'universo come una struttura dinamica, con una velocità stimata di 2,1 milioni di chilometri all'ora rispetto al fondo cosmico a microonde, che corrisponde a circa 580 chilometri al secondo. Il nostro Sole è quindi qualcosa di simile a una nave cosmica accompagnata dai suoi pianeti, che danza attraverso la galassia in un elegante spirale e la galassia stessa vortica nell'universo allo stesso tempo. Questa visione completamente nuova della dinamica del movimento è ben lontana dalla semplice idea che i pianeti orbitino semplicemente intorno a un Sole statico o che una galassia sia un ammasso fisso di stelle che ha il suo posto da qualche parte nell'universo. Pensa che ai tempi di Einstein i ricercatori pensavano che tutti gli oggetti dell'universo fossero in qualche modo sospesi in posizioni fisse. È stato solo grazie ai progressi tecnologici che gli astronomi hanno scoperto sempre più movimenti fantastici e che nulla, assolutamente nulla, in questo universo è statico. Si tratta di un universo in costante movimento, un luogo di processi dinamici e modelli eleganti. Incredibili processi di precisione e complessità scientifica hanno luogo ovunque, in ogni movimento. A proposito, il nostro universo è anche bellissimo. La consapevolezza che siamo tutti parte di questo incredibile universo può farci sentire piacevolmente umili e davvero ispirati. Il vero movimento è elicoidale. Ora che abbiamo girato intorno alla pista da ballo cosmica e visto la grandiosa danza del Sole, della Terra e della galassia, tuffiamoci in quello che inizialmente avevamo immaginato come il vero movimento, il sistema elicoidale. Questa nuova prospettiva sul nostro universo ha ampliato il modello tradizionale in cui i pianeti si muovono in orbite quasi circolari intorno a un Sole apparentemente statico. Abbiamo già avuto modo di conoscere la visione elicoidale del mondo nel nostro viaggio attraverso il cosmo del movimento. Fin dai tempi di Copernico e Keplero si pensava che il Sole fosse statico e il modello elicoidale ha portato una fascinante estensione che ci rivela contemporaneamente nuove dimensioni dell'universo. Potremmo scoprire che anche la danza delle masse delle galassie segue un certo schema o scopo. Le orbite elicoidali non sono solo scientificamente affascinanti e di profonda bellezza estetica, ma potrebbero anche avere una funzione molto specifica. Nulla in questo universo appare casuale e tutto è pensato e perfettamente coordinato fin nei minimi dettagli. Ogni pianeta lascia una traccia a forma di spirale nello spazio attraverso il suo movimento e naturalmente anche il Sole e la Via Lattea lasciano tracce nei loro viaggi. Sappiamo ancora molto poco del mezzo interstellare attraverso cui ci muoviamo e ancora meno dello spazio intergalattico. Movimento relativo L'angolo di visuale cambia tutto Un altro interessante aspetto chiave del modello elicoidale è il concetto di moto relativo. Abbiamo visto che nella visione tradizionale il Sole sembra essere fermo mentre i pianeti si muovono intorno ad esso, mentre nel modello elicoidale sia il Sole che i pianeti si muovono nello spazio. Questo movimento è sempre relativo ad altre stelle e strutture galattiche. Esistono quindi interdipendenze e interrelazioni di forze tra ogni oggetto della Via Lattea e dell'universo nel suo complesso. Il modo relativo ci mostra anche che la nostra prospettiva sull'universo dipende sempre dal nostro punto di vista. Visto dalla Terra, il Sole sembra girare intorno a noi, ma da un'altra prospettiva nell'universo, questo movimento sembrerebbe molto diverso. Come descritto da Einstein nella sua Teoria della Relatività, la maggior parte delle quantità, delle forze e delle percezioni cambiano a causa della relatività di tutte le forze. Siamo ancora all'inizio della comprensione di questi processi dimensionali e non sappiamo a quali scoperte ci condurrà questo entusiasmante viaggio. In ogni caso, questa estensione del modello elicoidale ci sta già portando in un mondo di prospettive completamente nuove sulla meraviglia del nostro universo. Conseguenze di vasta portata per la Terra Hai mai pensato a quali effetti potrebbe avere questo rapido movimento sulla Terra? Come esseri umani, in realtà, non ci accorgiamo di nulla di tutto ciò. Grazie alla gravità siamo incollati al pianeta e anche quando siamo a testa in giù o facciamo un loop a velocità incredibile, continuiamo a fare il nostro lavoro quotidiano come se nulla fosse. Ma i ricercatori stanno iniziando a capire che il movimento della Terra attraverso la galassia potrebbe avere effetti di vasta portata sulla vita sul nostro pianeta. Un aspetto fondamentale del movimento della Terra attraverso la galassia è il potenziale confronto con i raggi cosmici. I raggi cosmici sono particelle altamente energetiche provenienti dallo spazio profondo e originate da supernove lontane, resti di stelle esplose o da eventi come i gamma ray bursts. Quando la Terra attraversa queste sorgenti di radiazioni nel suo percorso attraverso la galassia, potremmo ricevere una dose extra di radiazioni in quel momento e forse fino ad ora non le abbiamo mai notate o associate a determinati fenomeni sulla Terra. Le radiazioni hanno il potenziale di influenzare l'atmosfera terrestre e persino la sua superficie. A livello molecolare, i raggi cosmici possono innescare reazioni chimiche nella nostra atmosfera e quindi stimolare la formazione di nuove molecole, ad esempio. Una delle ipotesi più interessanti in questo contesto è la possibilità che i raggi cosmici possano causare mutazioni genetiche negli organismi viventi. Queste mutazioni potrebbero essere dannose o portare a cambiamenti benefici nel DNA. È persino possibile che noi esseri umani, in quanto creature speciali di questo pianeta, siamo stati creati da questa piccola esplosione di radiazioni. Le radiazioni potrebbero addirittura aver guidato la vita stessa o essere il vero motore dell'evoluzione. Un altro aspetto importante del movimento della Terra attraverso la galassia è rappresentato dai cambiamenti della sua orbita intorno al Sole. Questi cambiamenti sono noti come cicli di Milankovic. In senso stretto, i cicli descrivono le variazioni dell'eccentricità, dell'inclinazione assiale e della precessione dell'asse terrestre, che influenzano il clima della Terra. I cambiamenti climatici storici, comprese le ere glaciali, potrebbero essere collegati a questi fenomeni. Quando l'orbita terrestre diventa più ellittica, si verificano maggiori variazioni nella distanza tra la Terra e il Sole, che a loro volta influenzano la quantità di energia solare che ci raggiunge. L'aumento dell'eccentricità può portare a inverni più freddi ed estati più calde. Le variazioni dell'inclinazione dell'asse possono alterare l'intensità e la distribuzione della radiazione solare sulla superficie terrestre, che a sua volta influisce sui modelli di vento globali e sulle correnti oceaniche. Nel nostro viaggio attraverso l'universo incontriamo naturalmente anche le orbite di altre stelle e pianeti. Non sappiamo ancora cosa lasciano esattamente un pianeta o una stella nel mezzo interstellare o galattico. Quando guidiamo un'auto in autostrada, lasciamo dietro di noi delle scie di gas di scarico, così come gli aerei lasciano delle scie nel cielo. Il Sole certamente perde plasma durante il suo viaggio e lascia tracce. Anche il nostro pianeta ha una certa dose di vaporizzazione e modifica il mezzo interstellare durante il suo viaggio. Gli scienziati stanno attualmente riflettendo se questi punti di contatto, del tutto nuovi e a lungo non riconosciuti con stelle e pianeti, anche molto lontani, possano diffondere la vita nell'universo. Clicca subito su iscriviti, perché presto arriveranno video ancora più impressionanti.